Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Le recenti elezioni di domenica stanno mostrando una grande attenzione non solo nei confronti dei risultati ma anche delle prospettive che il nuovo governo italiano andrà a portare soprattutto nel contesto internazionale. Un'attenzione che viene dal mondo mass mediatico e soprattutto dalla politica, dalla politica internazionale che guarda con grande interesse proprio gli sviluppi italiani. Il ruolo dell'Italia è fondamentale nel delicato equilibrio che in questo momento il sistema mondo sta attraversando. L'Italia è un paese strategico, un paese che si trova in una posizione particolarmente importante nell'ambito della geopolitica mondiale tra tre continenti, l'Europa, l'Asia e l'Africa. E contemporaneamente il ruolo dell'Italia nell'ambito della struttura economica finanziaria la rende assolutamente un paese in una posizione di grande importanza. E da qui l'ulteriore importanza che il ruolo della politica ha nel contesto globale. Ormai il percorso per Giorgia Meloni verso la presidenza del Consiglio è cosa certa ma contemporaneamente soprattutto nel contesto europeo si guarda il risultato italiano come un potenziale risultato che può influire sugli assetti e gli equilibri dell'intero continente europeo ma soprattutto andare nell'indirizzo di portare la politica di alcune realtà in particolare a prendere l'esempio della stessa Italia. E la Francia è una di queste realtà. La Francia che mostra come la presenza di Marine Le Pen si sia strutturata nel tempo come un'alternativa alla stessa politica di Macron. Marine Le Pen che di fronte risultato italiano manda un segnale di grande vicinanza e plaude appunto allo stesso risultato. E contemporaneamente altre realtà come la Svezia, come la Polonia, come l'Ungheria mettendo in evidenza sostanzialmente che l'Europa però di fatto ha un problema. Un problema che si basa sostanzialmente sulla problematica che non è mai riuscita ad affrontare. Nel momento in cui l'Europa nasceva la valutazione era quella di cercare di andare nella direzione anche di una partecipazione effettivamente democratica nel contesto europeo, con la creazione di un popolo europeo. Ma inevitabilmente tutta questa esperienza mostrava delle problematiche, delle problematiche che si legavano soprattutto alla storia europea, una storia fatta di contraposizioni dure, di guerre e ricordiamo che alla seconda guerra mondiale è seguito anche quanto accaduto nella ex Jugoslavia e attualmente in Ucraina. Ebbene aspetti di non poco conto che rendono particolarmente difficile il cammino verso un effettivo popolo europeo ma soprattutto verso una politica effettivamente unica per il vecchio continente. Di conseguenza le valutazioni vanno nella direzione della pluralità, popoli europei con le loro caratteristiche, con le loro culture, tradizioni e soprattutto con le proprie visioni nazionali in un contesto europeo che gradatamente nel tempo dovrebbe assumere una connotazione unica. Ma se da un lato l'Europa dei popoli rappresenta il pilastro, la base dell'Unione europea, contemporaneamente le diverse politiche degli stati membri e soprattutto i diversi interessi che gli stati membri hanno creano quella difficile coesione nel contesto europeo e da qui il problema. Il problema di una realtà che non riesce a darsi una struttura propria, una realtà che non riesce a tutelare l'interesse comune degli stati europei ma che pone la contrapposizione tra gli stessi interessi nel contesto europeo. Il malessere, il malessere che poi alla fine si vede, il malessere che viene portato nell'Unione europea, tende poi a manifestarsi in una contrapposizione e in un allontanamento dall'Unione europea stessa. Il doppio percorso, l'Europa dei governi e l'Europa dei popoli, tende a viaggiare su un doppio binario destinato quindi a non incontrarsi mai e mettendo in evidenza come l'Europa di oggi necessiti in modo particolare di quella che Gorbachev definiva per l'Unione sovietica una perestroica, ovvero un rinnovamento, un effettivo rinnovamento della struttura europea che si avvicini maggiormente ed effettivamente alle pluralità che caratterizzano il contesto europeo in senso generale e che ne fanno la sua ricchezza e soprattutto quei popoli diventino il punto di gravità del concetto stesso e della definizione di Unione europea. In questo momento, come detto, le politiche si stanno mostrando, i risultati elettorali stanno portando l'Europa verso direzioni diverse e soprattutto una linea comune si allontana sempre di più ma anche in questo caso è la volontà, la volontà che deve prevalere nel contesto europeo così come nel contesto internazionale. L'esperienza della guerra in Ucraina sta mostrando in realtà come le volontà tendano ad essere ancora lontane da arrivare ad effettivamente una risoluzione del problema Ucraina e contemporaneamente i problemi della stessa Unione europea in ogni momento di crisi e di emergenza tornano a mostrarsi mettendo in evidenza tutta la debolezza del continente di fronte a quelle che sono le reali sfide nel contesto internazionale dove i giganti Stati Uniti, Russia e Cina guardano l'Unione europea come una realtà potenzialmente forte, come una realtà potenzialmente in grado di essere incisiva nel contesto internazionale ma che poi in definitiva si limita sostanzialmente da sola. Per oggi abbiamo concluso.